Un'occasione importantissima, soprattutto in occasione del primo contratto di rinnovo con il gruppo Stellantis. Quindi vogliamo effettivamente verificare se questo gruppo è in grado di poter discutere e rinnovare un contratto che ha all'interno elementi fondamentali, l'elemento fondamentale del recupero totale dell'inflazione e soprattutto vogliamo capire se effettivamente dalle dichiarazioni, dalle parole si passa ai fatti. Cioè nel senso che noi vogliamo sapere se la piena occupazione, se gli investimenti che loro hanno annunciato sono poi investimenti che si traducono in fatti concreti. Una delle cose importanti è lo stabilimento di Melfi, dove noi abbiamo per primo avuto la possibilità di avere degli investimenti legati alla macchina elettrica, all'ibrido, e però abbiamo anche delle difficoltà legate a tutto il sistema della componentistica e dei servizi. Quindi diventa l'occasione, una volta presentata la piattaforma, per affrontare realmente una trattativa che oltre a rinnovare il contratto ci siano anche delle sicurezze e delle condizioni per quanto riguarda gli investimenti legati alla sfida che noi abbiamo voluto rappresentare, quella della transizione. Transizione che si è affrontata in termini concreti può darci delle soddisfazioni. Noi cercheremo di fare in modo che non ci siano né chiusure di stabilimenti, ci sia la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali.